buongiorno a tutti siamo qui con giovanni fasanella giornalista ricercatore scrittore si è occupato attraverso libri e inchieste degli anni diciamo più critici e della storia italiana siamo qui con lui perché a partire dal 13 di maggio sul canale youtube di amano disarmata sulla pagina facebook di giovanni fasanella giornalista e sulla pagina facebook di amano disarmata comincerà una serie di incontri in collaborazione fra l'associazione amano disarmata e giovanni fasanella il primo di cui saranno protagonisti germano dottori e michela mercuri due esperti geopolitica verterà sul mediterraneo fra storia e attualità allora la prima domanda che ti faccio giovanni è proprio questa qual è stato e qual è oggi il ruolo dell'italia il ruolo geopolitico dell'italia nel mediterraneo l'italia per la sua posizione geografica ha svolto un ruolo molto importante e per questa stessa per questa ragione è stata a volte blandita a volte combattuta diciamo che c'è stato un momento in cui l'italia ha rappresentato nel dopoguerra diciamo così ha affrontato uno dei momenti difficili ma è riuscita a recuperare una posizione ecco non c'è dubbio uno dei prezzi più umilianti e anche se ha ragione che l'italia ha dovuto pagare dopo la sconfitta bellica guerra voluta ricordiamola dal fascismo da penito mussolini è stato proprio la rinuncia alla alle colonie d'oltremare quindi alla libia e all'africa orientale paradossalmente però questa rinuncia all'opzione e coloniale imposta all'italia eh prima nel trattato di pace del mille e novecento quarantasei quarantasette eh con quale si chiuse la confere la conferenza di parigi e poi ratificato eh dalla eh società delle nazioni dall'onu sostanzialmente la rinuncia all'opzione coloniale eh da parte dell'italia sia pur imposta eh si è eh rivelata eh un'arma a nostro favore perché eh l'italia ha potuto eh nel periodo eh immediatamente post bellico ehm diciamo attuare una politica di eh pace e di amicizia in quest'area tra le più strategiche eh del mondo proprio per la presenza di fonti di ricchissime fonti energetiche eh e a tra grazie a questa politica è diventata uno dei punti eh un punto anzi di riferimento. Ed oggi com'è la situazione e che ruolo secondo te ha l'Italia all'interno della geopolitica mediterranea? Ma oggi purtroppo la situazione non è quella non è più quella costruita da personaggi come naturalmente eh d'intesa perché c'era un'intesa sotterranea con eh con l'opposizione nonostante tutto eh con l'opposizione di Palmiero e che si sono togliati e dicevo oggi eh la posizione dell'Italia non è più quella eh costruita da personaggi come De Gasperi, come Mattei, come eh Moro, furono loro i protagonisti di questa forte ripresa dell'Italia nel eh nel Mediterraneo. eh nel Mediterraneo. eh nel Mediterraneo.